Entra nel vivo il provvedimento a firma dell'assessore Anna Donati, che ha disposto la chiusura al traffico del centro antico, perché ad eccezione dei residenti dal 1 febbraio 2012 si potrà accedere alla zona a traffico limitato solo se in possesso del contrassegno rilasciato dal comune. Per richiederlo è necessario appartenere all'elenco delle categorie previste, compilare la modulistica presente sul sito istituzionale e consegnare la corredata dell'apposita documentazione presso la sede della seconda municipalità in Piazza Dante, da martedì 27 fino a sabato 31 dicembre e dal 2 gennaio 2012 tutti i giorni da lunedì al sabato. Le richieste saranno vagliate da un'apposita commissione alla quale è demandata anche la decisione sul rilascio del contrassegno. Per arrivare al 1 febbraio che la ZTL arriva a compimento, bisogna che noi rilasciamo a tutti i cittadini che vivono e lavorano nella ZTL un contrassegno e acquisire il loro numero di targa perché poi noi andremo verso i varchi telematici. Voglio però precisare una cosa per evitare il grande ingorgo all'ufficio che apre in Piazza Dante dal 27 dicembre. Nella prima fase dovranno chiedere il contrassegno tutti gli altri soggetti, per esempio l'artigiano, l'officina, il medico con obbligo di visita domiciliare, cioè tutti quei soggetti che fa il carico e scarico delle merci, tutti esclusi i residenti che li faremo andare in una seconda fase. Le autorizzazioni per l'anno 2012 che hanno un costo anno forfettario in base alla categoria del veicolo avranno una validità di 12 mesi dalla data del rilascio e dovranno restare esposte in modo chiaro e visibile sul lato anteriore della vettura. Le informazioni relative al rilascio dei permessi sono sul sito www.comune.napoli.it alla pagina dedicata al rilascio dei contrassegni per la ZTL e potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica contrassegni ZTL chiocciola napoliparc.org. Non avrà un costo accedere alla ZTL Centro Antico, semplicemente per avere il contrassegno e acquisire il numero di targa ci sarà un costo minimo di rilascio che naturalmente abbiamo fatto in modo che sia il più basso possibile. Io credo che i cittadini pur in grande difficoltà capiranno che quando si mettono varchi telematici, si aprono uffici, si controlla di più, tutto questo ha anche un costo minimo per l'amministrazione. Grazie.